l'analisi esecutiva di un luce da drink, diciamola tutta, allora, tonalità, sì portamento a un 50, molto lento in questo caso, ma, vedete il barreno, una quarta, una terza minore e su la sesta, riportato, dominante di E, con nota aggiunta, agganciato con il avvenimenti, ripeto, queste due dita, fino a tutte le sede corbe, tema, attenti qua, anzi che faccia il passaggio precedente, sulla quarta, sulla terza minore, sulla sesta, aggiungiamo, partiamo da sì, in ottava, settima, ampliamo la cosa di prima, aggiungendo un'ottava della terza, salto cromatico, vedete? La cosa importante qui è scivolare un slide con il mignolo per agganciare le dita mancanti, cioè, e non fare questo, perché c'è lo slide sul mignolo, ovviamente, quindi, nota da drink, e non, ma, le cosiddette note blu, ottava di sì, un omigrante sus4, andiamo indietro in un tono, barré, e suoniamo, cioè, l'accordo dominante, vedete? Ancora, questa volta, ho cambiato l'ottonunità, sono andato, infatti, sul sol, quindi, chiusura, da, scusate, scusate, e rai, ok? Scusate, scusate, e rai, ok? ok